Ciao amici, sono qui per l'ennesimo video su come pensano gli spiriti malini sulla fede dei demoni. Penso che sia il sesto, penso che sia il sesto. Allora, la mia rettura eretica, questa volta vi cita un paio di episodi, no, ve ne cito uno, perché in realtà ce n'è un altro, ma lo trovate sul blog se vi interessa vedere cosa ne penso, che mi ha sempre colpito, no? Perché nel Vangelo di Marco c'è Gesù che è lì nella sinagoga bello pacifico e tranquillo che sta spiegando la Bibbia ebraica e c'è dentro lì uno posseduto da un demonio, no? E questo sostanzialmente a un certo punto, mentre lui spiega bello tranquillo, felice e beato, le varie scritture, comincia a urlare con pirla, cioè praticamente proprio si incazza e dice Senti, ma che vuoi da noi Gesù Nazareno, ve lo leggo, eh? Sei venuto a rovinarci, so chi tu sei, il santo di Dio, no? E Gesù gli ordina severamente di uscire da questo tipo, gli dici taci, esci da lui, no? E questo praticamente viene liberato e oggettivamente l'episodio finisce qui. Però io leggendolo così ho evinto che, allora, Satana non impedisce minimamente a uno posseduto da lui di entrare in una sinagoga che, tradotto in termini moderni, significa anche, che ne so, entrare in una chiesa, stare beatamente in una seduta di meditazione, andare in un tempio a pregare fortemente, insomma, oggettivamente non è un minimo di impendimento da questo punto di vista. Poi, il tizio è l'unico che riconosce Gesù, in maniera immediata, cioè lo chiama addirittura il santo di Dio, cioè ha immediatamente la consapevolezza che questo è un po' diverso dagli altri. No, gli altri no, cioè tutta la gente che c'era lì ad ascoltare la Bibbia, con tutte quelle storie lì, insomma, erano magari colpiti dall'intelligenza di chi stava parlando, dalla cultura e quant'altro, ma non hanno nessuna, proprio, cioè non succede nient'altro, cioè è l'unico che veramente dice, si mette a urlare questa cosa qua. È abbastanza strano, no? Cioè c'è gente che sta con lui dal mattino alla sera ed è l'unico che lo vede tranquillamente in questa maniera. Poi si mette a urlare, hai capito? Quasi supplicandolo, cioè cosa vuoi da me, insomma? Lasciami in pace per cortesia, cioè si mette a urlare. Cioè, quando oggettivamente, se io fossi Satana e avessi davanti Gesù, non mi interesserebbe che tutti sapessero che lui è Gesù. Anzi, cercherei di tenere nascosta la cosa, questo no, questo fa casino immediatamente. Anzi, è invece Gesù che gli dice non dirlo a nessuno. Non è stupefacente? Perché non è stato stupefacente sta cosa qua, no? E la stessa cosa succederà a Gerasa, lui aveva finito di pescare con i suoi discepoli e va a Gerasa e gli viene addirittura incontro uno indemoniato, gli si getta a terra a supplicarlo. Cioè, io voglio dire, se fossi Satana, vedessi Gesù, casomai c'era questo artiscio. Adesso, come faccio a fregarti, insomma? Sostanzialmente sei il nemico. No? Questo no, questo gli corre addirittura incontro. Cioè, gli dice una roba tipo, ti scongiuri in nome di Dio, non tormentarmi. Lo prega, lo prega. Che cos'è che è in comune con me? E gli dice, figlio del Dio altissimo. Cioè, proprio lo riconosce immediatamente. Gli altri, cioè, zero. Tutti gli altri che c'erano intorno, questo faceva miracoli, salvava la gente, insomma, faceva tutte le sue cosine veramente un po' particolari. Era sicuramente un tipo quantomeno particolare, ma l'unico che gli spiattella in faccia la realtà è Satana. Quindi, un po' io me lo sono chiesta, ma che differenza c'è? Cioè, praticamente Satana ha una fede infinita. Ha proprio fede. Quindi mi sono chiesta, appunto, che differenza c'è tra questi demoni, questi spiriti malvagi, no? E invece, insomma, visto che questo qua è lì nella sinagoga, lo prega, lo riconosce immediatamente, e invece quello, magari, delle persone che erano insieme a Gesù, che gli volevano bene, degli apostoli, delle donne, insomma, delle persone che lo circondavano, che comunque stavano con lui dal mattino alla sera, che erano in giro per la Galilea insieme a lui. Cioè, me lo sono chiesto che differenza c'è, no? E la risposta che mi sono data, perché fede è fede, no? Entrambe sono fedi. Cioè, mi sembra abbastanza evidente che ha una fede pazzesca. Cioè, proprio... È che Satana, la fede di Satana, o comunque degli spirituali, dei demoni, è una certezza speculativa. Cosa intendo? È proprio con l'intelligenza che oggettivamente Satana, o comunque gli spiriti che erano lì, i suoi amici, riconoscono in Gesù qualcosa di particolare. Proprio attraverso l'intelligenza, eh. Cioè, che non è un tipo qualsiasi. Cioè, è una specie di matematica. Cioè, ci arrivano, capito? È evidente. Cioè, credono che Dio è Dio. È come se credessero che Dio è Dio. Punto. Ok? Mentre, secondo me, quella degli altri poveri sfigati che aveva intorno, che insomma ne combinano abbastanza di ogni, dal mattino alla sera, anche redaruiti fortemente, in realtà è una fede in Dio, nel senso dentro Dio. È come se partecipassero per osmosi alla cristicità. Cioè, lo amavano, capito? Cioè, il latino si capisce, perché c'è credere Deum e credere in Deo. In Deum vuol dire dentro la divinità. In Deum vuol dire dentro la divinità. Credere Deo vuol dire, vabbè, io credo che Dio sia Dio. In italiano no, è difficilissimo spiegarlo, ma in latino si capisce, si capisce la differenza. Cioè, la differenza è di compartecipazione al cuore. Punto. Cioè, quella è la differenza, perché fede è una cosa e fede è l'altra cosa. Del resto, Satana non è che sia un cretino, eh. Cioè, l'idea che questo qui abbia pensato, almeno nella Bibbia, non succede mai, se uno se la legge con un minimo di eresia, cioè, che significa, appunto, spirito critico. Cioè, succede mai che questo qua pensi di essere superiore a Dio? Mai. Neanche una volta. Cioè, sa perfettamente che lui è un'emanazione spirituale della divinità. Ne ha, sostanzialmente, una coscienza pazzesca. Ciò che non tollera, a caso mai, è avere a che fare con esseri incarnati. Con spiriti incarnati. Cioè, ciò che sta sulle palle a Satana è stata esattamente l'incarnazione, cioè, gli uomini. Perché hanno la carne, capito? Cioè, quella che è stata, la cosa che è stata più sul cazzo. Cioè, è come se avesse detto, ma, senti, ma io sono spuro spirito, sono intelligente, bellissimo, perfetto, e devo mettermi al servizio ad aiutare gente che cagherà, farà sesso, morirà, si putraffeggerà quella roba lì. Ma, passiamo fuori, ma che schifo! Cioè, questa qua, la tutta la menata, ma proprio, che schifo! Cioè, questo, cioè, sicuramente è un punto centrale sta roba qua. Quindi, cosa ha fatto? Ha preferito togliersi dai giochi, no? Piuttosto che regnare insieme a Dio nell'universo, obbedendogli, ha preferito obbedire a se stesso utilizzando tutto quello che c'era per il proprio tornaconto, no? In realtà, la sua è un'esigenza di autonomia, di indipendenza, è estremamente razionale, veramente è una creatura intelligentissima. È proprio un illuminismo spirituale il suo, ma proprio un illuminismo spirituale. Questa cosa i greci avrebbero, un peccato di ubris, avrebbero detto i greci, di tracotanza, no? Gli teologi la chiamano, giustamente, di superbia. E questo fa in modo che Satana sia, infatti, sempre incredibilmente generoso con gli uomini. Tenta, da una parte, di fare in modo che un uomo, gli uomini, bastino sempre a se stessi, non siano mai connessi con il divino, non si connessano mai con la loro fonte. Cioè, questa è una preoccupazione e che non ci pensino nemmeno. Infatti, come dire, questo peccato di Satana, questo che viene chiamato peccato di Satana, in fondo, non, non, non crea niente, non provoca niente. È un ostizio. È sostanzialmente un ostizio. Cioè, la sua colpa non produce mai niente di reale. piuttosto invece non obbedisce all'ordine che è stato richiesto. è una sorta di decreazione. Mentre l'universo crea, è luce crea, lui decrea. È semplicemente questo, decrea. Per cui, cerca disperatamente, in realtà, la finalità, di fare in modo che le cose non siano mai utilizzate nel modo giusto. e a volte usa l'orgoglio umano e a volte per esaltare, per fare in modo che gli uomini siano come lui e a volte usa invece la distruzione del poveretto di turno come si vede nei film americani con gli esorcisti. Però può sentirsi indifferentemente di un ritiro spirituale di un'orgia. È sempre diviso un po' tra orgoglio e traviamento. cioè nel senso che del resto il disprezzo per le creature incarnate lo incita ad abbassarli il più possibile. Cioè siete ammazzatevi. Orcia. Siete proprio abbassatevi, no? E invece la contesa con Dio l'odio verso Dio ma odio forse non lo so se odio ma sicuramente non cioè sicura la dissociazione con Dio lo sprona invece a farli diventare figli come lui fate da soli quindi le sue esigenze sono che basta che ognuno faccia da sé e che le cose non obbediscono alla loro natura cioè queste sono le due cose che fa praticamente si può essere satanici anche facendo il bene attraverso le proprie forze orgogliose sono io che sono il bene oppure pianificando una felicità personale è che non abbia sorprese il suo obiettivo è che ciò che esiste non sia utilizzato per lo scopo per cui è fatto per il tempo per cui è fatto direbbe le chiesate del resto insomma ci riesce abbastanza bene io direi che nel nostro tempo in quest'epoca è più facile obbedire a satana non credendo che esista che non obbedire a dio credendo che esista cioè più o meno sì direi che la questione è più o meno questa se ci pensate è vero è più facile obbedire a satana senza credergli senza avere fede in lui che non obbedire a dio credendo che invece esista dio mi sembra abbastanza evidente è sempre stato così probabilmente ciao spero di avervi interessato faccio il post vi saluto ciao ciao